come prosegue l'attività? male! come male? perchè la gente compra e si fa il palino, manca e basta sorte non c'è nessuno, carino, fanno sbaglio! quanti anni ha? lo possiamo sapere? ne faccio 92-98 anni! 92 anni? complimenti! grazie! e la sua passione, il suo hobby, il suo lavoro qual è? il mio lavoro, tutti i specie di lavoro l'hai fatto! tutti! tutti i specie di lavoro l'hai fatto! perciò è anche che dico che è meglio che non sei, l'hai fatto tutto! muratura, tutto questo! ed è questo importante, saper fare di tutto! non è come questa gente! lo sai perché? te lo dico! ci colpa gli altri! non ci vuoi altri perché ci colpa! perché ci davo i trovati e scappano tutti! e noi quale consiglio diamo ai giovani? un consiglio? non ne pede un consiglio, ma che lo posso! qualcuno lo ascolterà? ma già è proprio un tipo! cosa diciamo? qual è il segreto? ma un segreto è un sentimento! perché se non c'è un sentimento non c'è un segreto! e quello! la buona volontà intende lei? si ma c'è un passione, un buon amore! non c'è un sentimento! perché se tu non c'è un sentimento! e ti sembrava la promozione! ci stai attento! prima che ti metto a casa! perché io lo so! fare sacrifici! sacrifici! si! ora lo sai qua! si trovano! non c'è un'abbiamo! guarda! non c'è un'abbiamo! è un'abbiamo! non c'è un'abbiamo! il suo nome il suo nome così la salutiamo signor salvatore grazie complimenti complimenti e da floresta quest'altro momento davvero speciale